Musica Un cordiale saluto, buongiorno e benvenuti a tutti cari telespettatori di Fano TV sul canale 17 come tutte le mattine c'è la rassegna stampa, occhio ai giornali Allora, partiamo questa mattina subito dalle previsioni del tempo con trebimeteo.it e la fotografia di quella che è la situazione attuale e la previsione per la mattinata che come vedete è caratterizzata da tempo perturbato e addirittura la neve che sta scendendo sopra i 500 metri questa è la fotografia invece della situazione del pomeriggio con ancora temporali lungo la costa nella serata e torna ancora la neve, vedete, per la giornata di oggi intorno ai 600 metri ancora in collina e soprattutto nell'Appennino Domani la situazione continua ad essere un po' perturbata domani giovedì 20, perturbata sia al mattino che il pomeriggio vedete c'è ancora pioggia mentre le schiarite si fanno sempre più ampie nella parte settentrionale del pomeriggio, la sera però di nuovo torna il peggioramento, la quota neve sale, siamo attorno ai 1000 metri per effetto dell'aumento delle temperature ma poi vedete il tempo migliora e venerdì per fortuna avremo tempo sereno quindi con sole anche se per riavere temperature quasi estive come nei giorni scorsi insomma ci vorrà ancora qualche giorno cominciamo a leggere il giornale, adesso il resto del Carlino in prima pagina mette la notizia dei vandali scatenati a Pasqua rifiuti ovunque e danneggiamenti al porto di Pesaro neanche il bellissimo tetto del monte, mondo sul San Bartolo è stato risparmiato e questa è la fotografia poi mille segnalazioni con Whatsapp cittadini spietati, fate più multe sapete che a Pesaro c'è questa iniziativa della Polizia Municipale che ha lanciato un numero di telefono per le segnalazioni Whatsapp e ne sono arrivate più di mille messaggi a raffiche inviati ai vigili urbani e dopo l'intervento dicono loro ci ringraziano il ritorno dell'inverno, lo sbalzo termico porta la neve termosifoni accesi di nuovo c'è questa proroga anche del comune guidato a Matteo Ricci che ha previsto appunto la possibilità di accendere i termosifoni per la giornata per questi giorni e poi impiccato a testa in giù il gatto scomparso l'altra notizia sotto, macabro rinvenimento a Pieglia di Cagli lo cercavano da giorni e adesso è scattata naturalmente la denuncia ai carabinieri andiamo sulla pagina di Fano del resto del Carlino al camping come nel resort, costa meno una suite fino a 175 euro al giorno senza calcolare l'ombrellone le contraddizioni delle vacanze low cost e Cecchini degli albergatori dice da sei anni invece le tariffe degli alberghi sono al palo cioè sono ferme, va a finire che così chiuderemo piste ciclabili rischi la vita e sono pure maltenute la consigliera Ruggeri dei 5 Stelle denuncia lo stato non proprio perfetto delle piste ciclabili fanesi sempre dalla pagina di Fano Eagle Aviation a Terra Rimini il sindaco non ci ha difeso accusano loro la scuola di volo si trasferisce all'aeroporto Fellini la replica del sindaco invece sto facendo di tutto per mantenere in vita la struttura a Roncosambaccio invece strade disastrate con buche e auto a metano che rischiano di saltare in aria con persone che ogni giorno frequentano e passano per queste stradine che a chiamarle così francamente è un eufemismo nel senso che guardate in che stato si trovano lo indica Gianni Vincenzi con il dito insomma vedete questa è la situazione buche ovunque sembra un campo bombardato poi a Urbino invece un pentolino d'olio bollente che brucia tutta la cucina studentessa incendia la sua stanza collegiovela ragazza spagnola aveva intenzione di cucinare evidentemente qualcosa è andato storto e ecco il risultato è andato un po' distrutto tutto quanto allora andiamo adesso invece sulla pagina Pesaro Primo Piano per riprendere un po' la fotonotizia in prima pagina Picnic fa scempio sul tetto del mondo gruppo di visitatori lascia un cumulo di immondizia e al porto i vandali sono scatenati questi uomini spazzatura sono capaci di diminuire le nostre esistenze non è la prima volta dicono quelli della Capitaneria che accertiamo gesti davvero poco virtuosi ma questa volta è stato oltrepassato il limite poi c'è il commento degli amici del ciclista amatoriale morto per un infarto l'altro giorno gli amici si dicono increduli Patrizio si era fatto visitare e stava bene domani alle 10.30 ci saranno i funerali di Virgili così questo era il cognome nella chiesa di Villa San Martino tutti ricordi la tua battuta dicono gli amici sempre pronte il tuo sorriso acceso ci mancheranno nel giro di sei mesi invece negozi chiusi sarà questo l'effetto di H&M Uber Tamburini dice il comune di Pesaro ha steso un tappeto rosso a questo colosso che però adesso sta mettendo un po' in difficoltà i negozi, i piccoli negozi che probabilmente, forse, chi lo sa per effetto di questa apertura molti stanno chiudendo la modifica urbanistica ha consentito di aprire con certe dimensioni e Ricci si è catapultato per l'inaugurazione cambiamo giornale adesso il Corriere Adriatico la prima pagina è per il degrado contestate le multe gli ex hotel non hanno soldi più poteri alla Polizia Municipale controlli nelle aree maggiormente a rischio mentre a centropagina sul nuovo ospedale c'è l'atto della Regione assunzioni, i sindacati apprezzano il cambio di passo ma non mancano le cautele delibera ufficializzate il percorso per la struttura di Muraglia mostre e sport per cominciare partenza sprint per il turismo più di 2.000 visitatori per rinascimento segreto oltre 6.000 presenze per tornei e manifestazioni mentre dicevamo del nuovo ospedale c'è l'atto la Regione ha ufficializzato il percorso per la struttura del nuovo ospedale che verrà costruito a Muraglia elencando una serie di opportunità assunzioni, i sindacati apprezzano il cambio di passo dell'azienda tuttavia non mancano le cautele area di proprietà pubblica baricentrica, quella di Muraglia tra Pesaro e Fano si costruirà sul costruito ebbene la circonvarazione andiamo adesso invece sulla pagina di Fano del Corriere Adriatico eccola qua allarme smog nuova ordinanza ecco tutte le aree della zona blu sono già 19 gli sforamenti da inizio anno le polveri sottili le PM10 per la Regione Fano è da allerta e dunque divieto di circolazione dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 18.30 fino agli Euro 3 la ciclabile per forse 6 ore nella giungla la mentele di chi usa la pista ciclabile l'erba è talmente alta che sovrasta in altezza chi ci passa chi la frequenta questa è la pagina di Fano del Corriere la seconda Eagle Aviation vola a Rimini attacca seri debolezza politica sull'aeroporto il sindaco replica la scelta nasconde altre motivazioni la commissione di inchiesta si presta a strumentalizzazioni il primo cittadino attacca e dice quella parte politica non vuole stabilire la verità ha diversi obiettivi c'è un'altra notizia invece sempre dalla pagina di Fano del Corriere Adriatico zia Ilenia e una favola sottorete nata a Fano la figlia del secretario Udici Pierino Cecchi e regina in Sardegna con il Sant'Orso Volley Scudetto Coppa Italia di B2 e il titolo di miglior centrale ma la gioia della nipotina batte tutto e questa è la pagina l'altra pagina di Fano del Corriere Adriatico siamo in chiusura andiamo su su Pesaro anzi su Iesi e Chiaravalle Chiaravalle piange Gianluca l'ex calciatore trovato morto aveva 27 anni ed un passato di ragazzino prodigio sul rettangolo di gioco Gianluca Fulgenzi con i suoi occhi azzurri il dramma si è consumato a Cooper Montana dove era ospite della fattoria sociale Potere Tufi l'ultima pagina invece per lo sport Forza Fano adesso devi dare tutto per salvarti il difensore Torta è rientrato in squadra nel momento decisivo della stagione non è certo un rientro morbide o quello di Andrea Torta tornato al centro della difesa dell'arma dopo un lungo stop ci aspettano tre battaglie quella di domenica con il Modena sarà fondamentale e allora con questo chiudiamo qui la nostra segna stampa vi ricordo che questo è il numero di telefono per le vostre segnalazioni so che c'è un incidente ci hanno riferito poco fa c'è un incidente per chi ci segue in diretta e sta per andare al lavoro un incidente tra Fano e Pesaro in località Fosso Signore due auto che sono capottate quindi immagino che ci saranno difficoltà e disagi soprattutto per il traffico a quest'ora della mattina tra l'altro coincide con la ripresa di molte attività con le scuole che riaprono insomma sarà un po' una giornata così così una mattinata campale comunque vi informeremo e vi diremo tutti i dettagli nel corso del telegiornale in onda questa sera alle 20.30 grazie per averci seguito a voi tutti l'auguro di una buona giornata Grazie a tutti